Apriamo adesso un'ampia pagina dedicata alla sanità tarantina, iniziamo con i controlli medici gratuiti nel capologo ionico. Controlli medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con l'ausilio di tecnologie innovative per avere una consulenza offerta da medici specialisti che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano. E' lo scopo dello Street Health Tour, l'iniziativa della fondazione NIA che ha fatto tappa a Taranto in via Mignogna, dove in un camion sono stati effettuati check-up medici in forma totalmente gratuita. Ascoltiamo a tale proposito Aldo Sabatini, optometrista. Insegniamo alla gente come è un comportamento corretto da tenere in virtù di quelle che sono le aspettative di vita. Per quanto riguarda la vista facciamo una serie di controlli preventivi strumentalmente molto avanzati. Si misura il tono oculare, la pressione di conseguenza, l'angolo iridocorneale, topografia, pupilografia e diciamo così che si vengono a creare dei dati con i quali praticamente il soggetto che esce da qua ha la consapevolezza di quelle che sono le sue caratteristiche fisiche, per cui i suoi limiti. Le problematiche principali che si rispondono qui sono sulla popolazione anziana, per cui soggetti che hanno difficoltà ad accedere al servizio sanitario e di conseguenza, non perché non ci si possa accedere, ma i tempi sono estremamente lunghi, perché hanno una fame incredibile di avere un po' di prevenzione, la quale noi cerchiamo di superire.